Cari amici telespettatori, siamo rigorosamente con voi quest'oggi, sia in questo momento sia in quelli che potranno vedere questo live quando sarà già iniziato, che magari lo vedranno con qualche secondo di ritardo. Quest'oggi abbiamo come sempre i compleanni da festeggiare, ma in sottofondo sentite che stiamo sentendo il nuovo disco di Laura Pausini che è uscito a 27 ottobre, amici, e che sta avendo molto buon successo, come sempre. Poi vi ricordo che questa sera sul Rai 1 c'è l'appuntamento con tale e quale da non perdere. Però sarà una domenica piena di sport, di cose da vedere, c'è un mila di mese molto interessante per quanto riguarda la serie A, mentre anche tutte le altre categorie sofferanno. Poi per il resto, amici, sono tante le cose di cui parlare, ma naturalmente nel corso di questo nostro live, canteremo anche. Poi per il resto, amici, sono tante le cose di cui parlare, ma naturalmente nel corso di Poi per il resto, amici, sono tante le cose di cui parlare, ma naturalmente nel corso di il resto, amici, sono tante le cose di cui parlare. E questo è durare, secondo estratto dell'album di Paula e Laura Pausini, Anime parallele. E dunque amici, naturalmente ascolteremo ancora qualche canzone ma poi comincieremo e cantare insieme nell'altro. E dunque amici, con i nostri argomenti... Andiamo avanti ma poi cambieremo la musica. Quindi ora ci torniamo un po' con la musica però insomma poi si ritroveremo con la musica come sempre. Ed ora parliamo un po' di cose attuali, nel senso che avete sentito tutto quello che è successo in Toscana ed è veramente una cosa scandalosa. Infatti volevo parlarne un po' perché comunque è giusto essere vicini al popolo toscano e così. E lo siamo veramente perché c'è bisogno di essere solidali, c'è bisogno di dare loro forza e speriamo che tutto si sistemi. E dunque è giusto il tempo di passare a nuova musica italiana, diciamo brano vecchio ma sempre attuale. Grazie. 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 Grazie! Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanti quiserudo grazie a tutti 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 e poi grazie a tutti grazie a tutti